Mangia che ti fa bene, è il quadro di culinaria di oggi. La dica che io dò per voi è un prato típico toscano, per meglio dire fiorentino, è la bistecca alla fiorentina, è un tipo di corte bovino con osso, e gli americani chiamano di tibon, e è buon, è buon, sono cinque dedos di altura, possono cozinare preferenzialmente nella brasa, ma può essere una chapa anche, ora, gli americani chiamano che la carne sangra, la carne ha di sangrare, senza perdere la maciez, ha di essere suculenta e macia, e il corte deve arrivare di una raia bovina particolare, che è la chianina, la chianina è tipica della toscana, una sugestione di vino che io dò per accompagnare questo prato, questa bistecca alla fiorentina, è il Serlapo, della famiglia Macei, è un chianchi classico, che è produzione in Castellini e in Chianti, tra Siena e Florenza, è un vino cinto, incorpato, tannico, ma equilibrato, se non trovano il Serlapo, possono anche usare qualche altro vino cinto che abbia queste caratteristiche, ok? Bom, per oggi è tutto gente, per oggi è tutto, non esqueçam di se iscrivervi al nostro canale, ci accompagnare sempre, parlare bene, con altri amici, 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 conosciuti, perché garanto a voi che va arrivare molta cosa buona per lì, ok? Quindi, arrivederci a tutti, a quelli belli e a quelli brutti, ciao!